Buonasera da Meteo.it. Nella giornata di domani le regioni settentrionali saranno raggiunte da una perturbazione atlantica che renderà il tempo instabile con lo sviluppo di rovesce temporali che localmente potranno essere anche di forte intensità. Sul resto dell'Italia ancora situazione roventa, avremo il dominio dell'alta pressione nordafricana. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni. Tempo instabile come vi dicevo al nord e con lo sviluppo di rovesce temporali sulle Alpi ma che si estenderanno anche in pianura. Sul resto del paese invece avremo prevalenza di sole. Per quanto riguarda le temperature massime saranno in calo nelle regioni settentrionali, farà ancora molto caldo invece al centro-sud con valori fino a 36-37 gradi ma trattandosi di un caldo affoso le percepite dal nostro corpo saranno ancora vicine ai 40 gradi. Per altri dettagli sul tempo come sempre consultate il nostro sito all'indirizzo www.meteo.it